Ladybug e Chanoir sono preoccupato, è arrivato un nuovo super cattivo e ho paura che non potrete fermarlo con i vostri poteri. È talmente piccolo che non si riesce a vedere e questo lo rende più pericoloso. Si tratta di un virus invisibile e davvero spietato, ma vi insegnerò una tecnica ancestrale molto efficace che vi darà la possibilità di combattere contro di lui. Prima di tutto la lavate bene le mani con acqua e sapone più volte al giorno. Adrion, anche tu ti stai lavando le mani? Sì, è importante per proteggere se stessi e gli altri. Già, è importante proteggere se stessi. Quando tossite o starnutite, fatelo nella piega del gomito, mai nella mano. Starnutisci benissimo, Adrion. Grazie, Marinette. Niente più contatti fisici né baci finché il virus non va via. Niente più baci, veramente! Chanoir! Desolato. E infine, usate soltanto fazzoletti di carta e dopo averli utilizzati, gettateli in un cestino apposito. Ecco. Grazie. Prego, Marinette. Questo è ciò che ci aiuterà a sconfiggere il virus. Le precauzioni più semplici sono le più efficaci. Portate questo messaggio a tutto il mondo. Sarà fatto, maestro Fu. Posso prenderlo in prestito? Proteggi te stesso, la tua famiglia. Proteggi tutti quelli che ami. E insieme riusciremo a sconfiggere il virus. E insieme riusciremo a sconfiggere il virus.